come vi ho detto diverse volte tanti progetti questo anno e vi avevo menzionato che uno sarebbe stato portato a termine entro fine febbraio così ho fatto gli altri sono un po in ritardo ma il secondo è stato completato di recente e ve ne parlo oggi il terzo tra l'altro arriva inizio luglio giusto per dare un piccolo spoiler qui per cui non vedo l'ora di parlarvene perché sinceramente non sto più nella pelle ma come sempre vi dico tutto solo dopo la sigla ciao bentornato sul canale come sempre sono pasquale questo è io risparmio il canale del tuo amichevole risparmiatore investitore della porta accanto nel video di oggi ti vado a dire che finalmente ho completato il secondo dei miei progetti di quest'anno in questo diciamo velocissimo video completato tra l'altro proprio di recente sul quale sto affinando alcune piccole cose ma la cosa più importante che ho da questo percorso è avere raggiunto la comprensione di quanto la carenza di educazione finanziaria possa impattare sul nostro futuro se guardo al passato infatti quando ho iniziato questo percorso dove avevo tanti debiti un animo spendacione e non avevo neanche la benché minima idea né tantomeno la voglia di risparmiare investire e beh è un retaggio sicuramente familiare ma in ogni caso gli esseri umani della nostra generazione sono molto guidati dall'apparire invece dell'essere apparire alla moda con gli ultimi ritrovati tecnologici ma bisogna uscire da questo schema e contesto mentale prima di tutto cos'è l'educazione finanziaria secondo la definizione dell'ox l'educazione finanziaria è un processo attraverso il quale i consumatori i risparmiatori e gli investitori migliorano le loro capacità di comprensione dei prodotti finanziari dei concetti che sono alla base e attraverso istruzioni informazioni consigli sviluppano attitudini a conoscere atti a comprendere i rischi e le opportunità di fare scelte informate dove ricevere supporto aiuto per realizzare tale scelte e tale azioni da intraprendere per migliorare il proprio stato di livello di protezione una bellissima frase lunga tra l'altro ma come poterci educare il problema che ho incontrato io nella mia epoca era la carenza di informazioni internet era nel piano della bolla del dot com quando io ero a manchester e una buona educazione finanziaria sicuramente mi avrebbe permesso di mettere da parte molti soldini cosa che non ho fatto al giorno d'oggi invece sono troppe informazioni anche qui su youtube ne è pieno il problema ora è la eccessiva mole appunto di informazioni che una persona è costretto a vagliare alcuni sono vere interessanti alcune altre sono solo clickbait ma in generale molto frammentate ed è qui che entra in gioco una nuova figura quella dell'educatore finanziario ed è qui che entro in gioco io infatti da poco tempo ho conseguito la certificazione sono anche scritto a registro nazionale degli educatori finanziari aif appunto l'associazione italiana per gli educatori finanziari ma che cos'è effettivamente un educatore finanziario è in effetti una nuova figura che validata dall'iscrizione all'if nell'elenco delle associazioni professionali tenuto appunto dal ministero dello sviluppo economico secondo la legge 4 del 2013 in cosa consiste questo lavoro il lavoro dell'educatore finanziario di migliorare le conoscenze economiche e finanziarie dei cittadini aiutando a riconoscere e utilizzare al meglio i prodotti più diffusi e fare appunto scelte consapevoli per cui oltre a divulgare qui su youtube la mia appunto primaria passione quello che vorrei fare è anche di svolgere i miei corsi di formazioni nelle scuole dove le persone sono ancora da formare per cui dove un'educazione finanziaria precoce può in sostanza aiutare anche il contesto economico e sociale della nostra nazione per cui una vera e propria alfabetizzazione finanziaria se così si può definire se ci pensate nel corso della vita tutti noi utilizziamo numerosi prodotti finanziari e assicurativi partendo dal più semplice conto corrente il banco ma la carta di credito per chi compra a casa il mutuo o magari un prestito personale l'assicurazione auto risparmi sui conti deposito o come non si parla appunto qui sul canale anche di investimenti troppo spesso però li scegliamo in modo non oculato e magari troppo di fretta quasi impulsivo l'attenta valutazione della propria situazione personale ed economica nonché una scelta ponderata dei prodotti unita a una corretta gestione del proprio denario può valere anche diverse migliaia di euro ogni anno per questo motivo in considerazione sia del contesto globale ma soprattutto il nostro contesto personale è di fondamentale importanza fare delle scelte sostenibili e oculate in materia bancaria come ad esempio un conto corrente ma anche risparmiare per garantirci un buon tenone di vita per noi e per i nostri familiari se quello è il nostro obiettivo come per esempio quello mio integrando la pensione poi anche proteggere il tenore di vita attuale da eventuali perdite economiche per esempio per motivi di salute o per danni causati accidentalmente o per la perdita del proprio lavoro l'educatore finanziario è un professionista adatto a rispondere a tutte queste esigenze per cui sono quattro le modalità per le quali farò formazione finanziaria se si scudo appunto quella su youtube dove comunque continuerò ad andare a pubblicare contenuti almeno due volte al mese di educazione finanziaria che sono completamente gratuiti ovviamente continuerò a fare tutti i cinque video a settimana la prima tipologia sono le sessioni one to one in cui tramite call di circa 45 minuti sarà completamente dedicato a chi voglia chiedere alla mia consulenza analizzando per filo e per segno la propria situazione finanziaria e cercando di ritrovare le soluzioni ottimali la seconda sono lezioni web in formato classe vorrei per cui organizzare classi di circa 5-6 persone non di meno per avere almeno un contesto di scambi di idee e magari che sia anche più complesso e non di più a fine dedicare il tempo giusto a tutte le persone coinvolte la terza metodologia saranno dei video corsi registrati appunto di educazione finanziaria in cui sarà un percorso dalla A alla Z questo percorso è già in preparazione e attraverso video lezioni cercherò di andare a sottolineare gli aspetti più importanti su cui andare a concentrarsi per migliorare la propria situazione finanziaria infine come dicevo all'inizio vorrei dedicare del tempo all'educazione nelle scuole soprattutto medie superiori principalmente dove andare a portare un po' più di consapevolezza sulla gestione del proprio denaro e magari anche in un contesto aziendale molto più avanti magari nel tempo al fine di educare anche le persone adulte lì dove non sono riuscito ad arrivare a raggiungerle con altre metodologie cerco sostanzialmente di portare più formazioni su come gestire i soldi alle persone che non sanno dove iniziare e lo faccio soprattutto in maniera ordinata e legale ovviamente tengo a precisare che questa non sarà una formazione di tipo gestione patrimoniale non sarà un consulente finanziario indipendente per cui non potrò assolutamente dire dove andare a investire in quali strumenti o quali aziende ma posso dare un indirizzo su quali valutazioni fare in base alla propria situazione finanziaria e i propri progetti diciamo futuri bene spero di averti reso ancora più partecipe in maniera dettagliata della mia avventura e anche tu abbia apprezzato questa cosa come detto a gennaio ho preso di petto questo canale e questa attività e la situazione e la voglio portare a dei livelli molto più professionali e di qualità e questo dopo la creazione di macrofin era il secondo step necessario apprezzerei moltissimo dei feedback da parte tua il fatto che stiamo premendo per migliorare e crescere soprattutto grazie al tuo contributo che mi suegui e mi supporti qui su youtube troverai nella descrizione del video due link uno per una chiamata gratuita e conoscitiva di 10 minuti per capire cosa faccio in maniera più dettagliata e poi quella per una chiamata successiva in cui magari vorrei andare a approfondire il tuo percorso con una consulenza vera e propria dammi un tuo cenno nei commenti qui sotto e aiutami a crescere ancora di più con tanti suggerimenti come sempre ti chiedo di lasciare un bel pollice in su per la grottina di youtube e se sei nuovo sul canale di iscriversi e di cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo bene anche per oggi è tutto e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video ciao